Saki descrivi la situazione temporalesca. Saki prendi il volo! Qua, qua! Sulla neve Saki! Salta sulla neve! Saki! Saki! Ti tiro le pappa allanate lì neri! Eh, non mi aiuta questa eh! Saki! Saki! Prendilo! Saki! Fa un saluto! Ma c'è lì! Veloce! Controllo una cosa! Vedo giallo! No, non è giallo! Vediamo se riesco a farglielo fare! Micio! Dove è il Micio? Micio! Saki! Palla! 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 Prendi la palla! Buona fredda! il piano il piano il piano il piano il piano come dire indisperto il piano il piano il piano il piano il piano Siamo al videogioco di Chucky, lo vedi in terza persona. Guida il tuo Chucky nel mondo dei videogiochi. Dai Chucky, Chucky, trafka, eh? Cerca i materiali, dai Chucky. Giù ci, giù ci, giù ci. Diccio, guardami, non so qua. Pistoglio. Dai, corriamo, stai qui. Vai, stai qui, corriamo, 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 corriamo. Un'altra. Un'altra. Un'altra, un'altra. Grazie a tutti. La passeggiata di Ciacchi, videocomplice. Mi dà l'intenzione che mi sto riempiendo d'acqua comunque. Si, si vede che riesce a penetrare. Oh madonna, me l'ha solto pieno d'acqua comunque. Riesce a penetrare la neve. Non ha buchi, l'ho già provata. A meno che si è bucato lo stesso. Sta montando in acqua. Eh? No, si fa quella bianca. Non sta piovendo. Madonna, te la scarpa bagnata. È questo possibile? In chi? Non sono andato entrati in acqua io eh. Cioè almeno non buchi, non è andato entrati in acqua. Ma perché mi ha vissi dentro sempre l'acqua questa? Non l'ho visto io. L'altro è sempre... Sta bagnando il cellulare. L'ho visto qua. Lanciarmi le cose. Chi? Tu? No, eh. Non faccio quello cellulare, cane. Perchè? Non faccio qua, eh? Che ci saranno arrivati qua cosa addosso? Ci sono davanti. Mauro! Irre, adesso andremo il nostro ciclino per caci. Wow! Un'altra cosa non è il mio è 55 km.